Severnini, il colpo d'occhio per te qual è stato? Si dice spesso che la situazione è grave ma non seria. In questo caso possiamo dire questo? No, Lilli, è grave ed è seria, perché il Covid è stato come un terremoto e ha scombusolato tutto e dopo il terremoto arrivano anche gli sciacalli e questo che preoccupa, l'ha già detto poco fa Pino Corrias adesso arrivano tantissimi soldi e ricordiamo sempre, forse una data che a qualcuno è sfuggita che parliamo di cinque anni, entro il 2026 i progetti devono essere terminati non solo progettati come facciamo sempre in Italia, terminati vuol dire portati a termine quindi in cinque anni si decidono tantissime cose, più di 200 miliardi l'abbiamo ripetuto chissà quante volte ed è chiaro che a qualcuno fanno gola e ci sono delle cose che capiamo ogni tanto perché sbuca qualche faccia, qualche notizia io ho un amico da tanti anni che mi diceva, aveva un ruolo importante in una società privata mi diceva guarda io a Roma quando vado per lavoro o mi chiudo in albergo o cerco di ripartire alla sera perché sennò mi invitano qua e là e diventa complicato e addirittura pericoloso. Adesso questo mio amico fa il ministro, mi auguro che si chiuda in casa è però una persona per bene e quindi sono sicuro che lui e gli altri proveranno a evitare che questi, io li ho chiamati sciacalli o pescecani, si diano da fare perché le mandibole italiane non stanno mai ferme. Ho capito di chi stai parlando, parliamo di un ministro tecnico Lina Palmieri